L'Assemblea dei Sindaci della SRR4 ha approvato all'unanimità il bilancio 2023. La riunione è stata piuttosto lunga e pare quindi che siano state superate alcune perplessità che erano state espresse durante il precedente incontro dal sindaco Terenzano Di Stefano e dal primo cittadino di Mazzarino, Domenico Faraci. Di Stefano aveva chiesto di verificare atti e documentazione. Allo Stato invece rimane invariata la composizione del Consiglio d'Amministrazione. Nel punto è stato rinviato, di conseguenza il sindaco di Deglia Gianfilippo Bancheri continuerà a presiedere la SRR4 e nel CDA sono presenti inoltre i primi cittadini di Riesi, Salvatore Sardella e di Sommatino, Salvatore Letizia. Davanti alla SRR4 si apre una fase ancora con tappe importanti e chiaramente già rimane uno dei punti nevralgici. Il sindaco Di Stefano è tornato a chiedere un potenziamento del servizio di pulizia in attesa di un cronoprogramma da impianti SRR, l'in-house controllata dalla SRR4 che gestisce il servizio in città. C'è sicuramente l'ITAR in corso per l'eventuale ampliamento. Era discaricato in pazzo confermato al Governo regionale con fondi FSC per circa 32 milioni di euro. Rimane inoltre aperto l'aspetto e le mitigazioni ambientali che dovrebbero toccare al Comune di Gela per la presenza sul territorio cittadino dell'intera impiantistica. Uno dei passaggi di rimenti è il rapporto con lato CL2 liquidazione. Buona parte dei sindaci della SRR4 fino a qualche mese fa ha continuato a premere sul tasso del trasferimento degli asset e dei rapporti giuridici proprio alla società di regolamentazione. Non è chiaro, infine, quale potrà essere il futuro del sistema di compostaggio di Brucazzi, fermo da mesi e di proprietà dell'ambito. Grazie a tutti.